e ci siamo per chi ho giocato il pallone c'è il carcino la palla, la palla ma lo facciamo un torneo la palla, puoi mettere anche un prosciutto cotto e anche una figlia di lasagna oh c'è i tagliavini, ho arrivato abbiamo visto i tagliavini nella sega siamo due pizza a zero sembra Inter-Cesena ho visto compietta di Musu ha preso due gran ruolo ha preso due gran ruolo a livello sale partita partita come la porta è una volta per la che fa la porta al fine del nuovo per dichiarci tutto allevare oh ma di Dio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.